Ciao amici di Gorizia TV, ecco siamo con Blu Notte, siamo il sabato con il complesso Brox Chila, Brox Band, speriamo che l'ho detto giusto, siamo in Tresa Alpina e adesso dovremmo intervistare l'assessore alla cultura, e non poteva mancare il nostro grande assessore alla cultura, si può andare un po' più indietro, un po' più indietro, eccolo qua, perfetto Allora anche lei in questa manifestazione Blu Notte, con questo bellissimo concerto, fortunato la pioggia, no? Beh, a testimonianza di quanto era importante questo concerto e questa manifestazione, Blu Notte è un successo, nonostante la pioggia c'è una piazza transalpina, voi lo vedrete con le immagini del nostro Ropi, c'è una piazza transalpina piena, per sol, jazz, sol, blues, una piazza unica e unita, perché cento anni fa nelle nostre terre si combatteva, settant'anni fa c'erano due grandi blocchi, est e ovest, ora siamo a cavallo dell'Europa, ma non soltanto, una piazza che è soltanto a Corizia, a Nuova Corizia possiamo vantare, non per niente siamo candidati a tutte e due le città come capitale europee della cultura 2025 e questo tipo di concerti, questo tipo di manifestazioni non fanno che avvalorare l'importanza del progetto culturale, ma perché? Anche perché la musica è quello strumento che unisce tutti i popoli e la festa che sta vivendo in piazza transalpina è l'esempio emblematico. La musica non c'ha confini, no? Musica senza confini, ma poi musica di altissimo livello. E questo è importante, comunque valorizzare molto di più la transalpina, che è un esempio dell'ultimo muro comunista che è caduto, eh? Ma qua con gli organizzatori mi hanno chiesto quest'inverno, Fabrizio, come la vedresti in piazza transalpina? E tu mi fareste un regalo, e il regalo è arrivato. Benissimo, vuoi fare un bel saluto, caro Oraccio? Faccio un saluto a tutti i telespettatori di Roby, e vi dico, in Curizia vive vivace, viviamola! Perfetto, grazie mille, buon lavoro. Grazie anche a te. Bene, salutiamo l'assessore Oretti, e adesso andiamo a sentire questa bravissima cantante, che ho fatto anche la fondoscire, ma guardate anche soltanto Curizia 2, e vediamo nel finale. Bene, andiamo con l'originale, vi lascio tutto intero, e ci vediamo alla fine. It was you, it was you, it was you, it left me Left down the blues, left down the blues, left me Left from the dark, where trouble gripped my heart You came and brought me to life Pulled me up, to my feet Pulled me up at my feet Put me up to my feet To my feet It was you, it was you, it was you A hare of the planes Left down the blues Lifting the blues Lifting Lifting the blues No Lifting the blues Lifting the blues Lifting the blues Grazie a tutti 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 Grazie a tutti